Mi arriva questo messaggio da questa ragazza che dice no non sono d'accordo con la regola dei sei mesi dove spiego che per avere un minimo idea di come andrà una relazione bisogna aspettare almeno sei mesi. Se siete nuove calmatevi non sentitevi male dopo questa affermazione state calme il mondo romitico e il mondo della verità dove le fiabe si fermano e cerchiamo di costruire la storia della nostra vita. Cerchiamo di costruire la nostra felicità con mattoni di realtà costruiamo la felicità con mattoni di realtà. Ok bene calme state calmatevi ebbene questa novella romitica mi dice no quello che tu dici è sbagliato e poi non è vero che una bomba amicizia non può mai trasformarsi in una relazione perché questa è un'altra delle mie affermazioni una bomba amicizia. Non si trasforma in una relazione ma che cosa intendo quello che intendo è che una bomba amicizia quindi una relazione diciamo così una interazione basata sulla golosità. Come sapete certe parole non posso dirle è praticamente impossibile che si trasformi in qualcosa di diverso e il suo racconto è questo. Mi conosco con questo ragazzo ci frequentiamo per un po di tempo abbiamo una bomba amicizia e quando passano i sei mesi lui dice io voglio creare qualcosa di più serio. Voglio fondamentalmente una relazione con te vela di quale brutte quindi hai visto una bomba amicizia si è trasformata in qualcosa di più concreto in una relazione vera e propria ora siamo insieme da quattro anni quelle che tu dici sono tutte fregnacce. E no tesoro hai esattamente confermato quello che io spiego e adesso cerco di spiegarlo peggio. Quello che io dico è che una bomba amicizia conclamata quindi ad esempio un uomo che vi fa capire che di voi non ne vuole sapere niente una bomba amicizia che va avanti da più di sei mesi tipo ho un bomba amico da due anni beh quello è un bomba amico per tutta la vita ok. Al contrario nel momento in cui voi state conoscendo una persona e la cosa può nascere come bomba amicizia certo che si può trasformare è una questione di tempi se voi avete una bomba amicizia da due anni non si trasformerà mai in qualcosa di diverso. Se voi avete una bomba amicizia da tre mesi non è una bomba amicizia e che voi vorreste che una cosa nascesse come una relazione dopo un secondo ma nella normalità della vita le cose nascono in maniera leggera e poi si possono trasformare in qualcosa di più serio. Non è che una bomba amicizia che si è trasformata in una relazione è una conoscenza leggera che poi piano piano nel corso del tempo più o meno sei mesi diventa qualcosa di più concreto quindi è perfettamente confermato. Semplicemente questa ragazza voleva sentirsi dire sei la mia fidanzata dopo due mesi ma non funziona così e quando un uomo ve lo dice scappate a gambe levate perché sono quelli che dopo due mesi vi dicono ti amo e dopo tre mesi dicono sono confuso no aspetta forse penso ancora alla mia ex no quello che ho visto con esperienza di centinaia forse migliaia di persone è che i giochi si giocano nei primi sei mesi quindi in questi famosi sei mesi la cosa si trasforma da neanche ti conosco perché magari non lo conoscete il tipo a mi interessi a bombacchiamo a bombacchiamo ma qualcosa di più a oh tu mi piaci piaccio anch'io a te e solitamente questa cosa si trasforma nei primi sei mesi possono esserci delle eccezioni può essere che una persona già dopo il primo incontro sappiate che non vi piace e non potrà essere più che qualcuno per divertimento lo sanno gli uomini lo sanno anche le donne questo è il punto non è che quando lo sappiamo noi allora va bene quando gli altri lo dicono di noi sono dei superficialoni capita anche a voi di uscire con un ragazzo e dopo una o due volte che lo vedete sapete che non potrà mai essere nient'altro se non una bombata perché magari fa delle robe che non vi piacciono però per una bombata ci può anche stare ok quindi tutto si sviluppa grossomodo nei primi sei mesi dobbiamo rispettare i nostri tempi di conoscenza andare troppo lenti o troppo veloci è sempre uno scombussolamento della natura grazie a tutti